ciao a tutti ragazzi in questo nuovo video io sono Angelica Cedrini e bentornati sul canale di mio papà Mario Cedrini e oggi faremo un esperimento faccio faremo aceto e bicarbonato e serve un bicchiere se volete potete farlo anche in una bottiglia innanzitutto prendiamo il bicchiere e l'aceto mettiamo un po di aceto un po tantissimo devo finire la bottiglia posso finirla la bottiglia qua perché no non ho messo un po trappo è rimasto solo un cucino guardate prendiamo il bicarbonato ragazzi io ho paura ragazzi io ho paura devo affrontare tre due uno ancora ragazzi non ci posso credere prima d'ora non l'avevo mai visto dal vivo io quando ero piccola volevo fare questi esperimenti no mia mamma mi diceva ma è tipo a cubi carbonato no e oggi ho fatto per voi questo esperimento pazzo con tantissimo adesso sta sporcando tutta la tovaglia questo lo useremo per le formiche venite venite un attimo con me guardate sono state le formiche sono state tutte le formiche entrano un po no brutte venite fuori vi uccido ragazzi spero che il video di oggi e l'esperimento di oggi vi sia piaciuto mettete un bel pollice nel su e iscrivetevi al canale ciao belli